La crisi economica affligge quotidianamente gran parte della nostra società, investe ogni settore e il calcio non fa eccezione, ma da qui ad affrontare un match ufficiale presentandosi con la Juniors ce ne passa, soprattutto se siamo solamente alla decima giornata di campionato. Comincia così Ancona-Boiano e per fortuna si gioca perché in settimana sembrava nemmeno si presentassero in campo i molisani. A Boiano infatti è caos totale, in settimana si dimette Edoardo Gargiulo, quarto tecnico stagionale, il presidente di Conza, non riesce a tener fede agli impegni economici dei suoi calciatori e così la prima squadra incrocia le braccia, anzi incrocia le gambe ad essere precisi e diserta gli allenamenti e quindi oggi il Boiano affronta l'Ancona con la Juniors. Ad essere precisi non sarebbe nemmeno una novità, il Boiano aveva già giocato con la Juniors 15 giorni fa sul Mona, dove i ragazzini di Menna incassarono sei reti. Nella stessa giornata l'Isernia per gli stessi motivi fece pure peggio, non scendendo neppure in campo nel match contro la Civitanovese, con conseguente 0-3 a tavolino per il rosso-blu di Iaconi. E se solo dopo due mesi e mezzo di campionato succede tutto ciò, che faranno queste squadre da qui a maggio? Chi vivrà vedrà e chi vedrà il match di oggi rischia di assistere a un amichevole tra l'Ancona capolista e la primavera del Boiano. Comunque Cornacchini non si fida e ordina concentrazione e vittoria, ed infatti schiera l'undici titolare con il solo Degano al posto di Biso acciaccato. Il Boiano giunge ad Ancona con solo undici effettivi, pensate, nemmeno i panchinari e il medico sociale, siamo proprio ai minimi termini. Vediamo insieme comunque com'è andata allora tra Ancona e Boiano. Comincia, indovinate chi? L'Ancona, con un tiro telefonato di Degano, poi al dodicesimo il primo botto. Barillaro va sul fondo, mette in area per Tavares che aggancia, si gira e in diagonale batte Romano per l'1-0 dell'Ancona. Ancona 1, Boiano 0, Diogo Tavares. Al quindicesimo doppio corner per l'Ancona, sul primo smanaccia Romano, sul secondo capparuccia di testa, mette di poco a lato. Ventiduesimo bondi dalla sinistra in area, ma Tavares non aggancia. Venticinquesimo ogni corner per il Boiano è un thriller, questa volta la difesa molisana sventa con difficoltà. Poi al trentesimo l'Ancona raddoppia. Sivilla sulla destra fa proseguire Barillaro, che mette indietro per la corrente Degano, che con un colpo da biliardo insacca il 2-0. Ancona 2, Boiano 0, Daniele Degano. È un monologo dell'Ancona. I poveri ragazzini del Boiano non riescono ad imbastire una benché minima azione da rete. L'Ori è spettatore non pagante. Al trentasettesimo Degano di potenza, miracolo di Romano. Poi a Tavares non riesce il tapin vincente. Di Dio dalla sinistra, attraversone al centro, Degano non aggancia. Poi Cacioli da corner di testa, beffa l'estremo del Boiano, ma un difensore bianco-rosso dice no sulla linea. Fine del primo tempo. Ancona 2, Boiano 0. La ripresa comincia con Morbidelli in campo, il luogo di Bondi nell'Ancona. E ne vedremo delle belle in questa ripresa. Infatti già dopo due minuti l'Ancona triplica. Da corner svetta più in alto di tutti Tavares, che inzucca e buca Romano. Ancona 3, Boiano 0. Ancora Diogo Tavares. Tre minuti dopo ci riprova Degano, devia il portiere. E tre minuti dopo ancora Sivilla va via in velocità in contropiede. E di potenza in diagonale infila il poker dei padroni di casa. Ancona 4, Boiano 0. Andrea Sivilla. Andrea Sivilla, che poco dopo lascia il campo per Cazzola. Al nonno continua la pioggia di gol. Imperiosa discesa proprio di Cazzola sulla destra. Cross sul secondo palo a Morbidelli, che porge indietro a Degano, che evita un avversario. E scaglia in rete una sassata, che dà il quinto gol all'Ancona. Ancona 5, Boiano 0. Daniele Degano. Daniele Degano, che poco dopo lascia spazio a William Pizzi. Continua ancora l'Ancona. 17esimo, discesa di Didio sulla sinistra. Bella girata di Tavares. Bella risposta di Romano. Tre minuti dopo Pizzi fa barba e capelli al palo. E poi al 25esimo, lo stesso Pizzi, calcia in diagonale una palla che a un centimetro dalla linea di porta, Tavares tocca per il 6-0 dell'Ancona. Ancona 6, Boiano 0. Di nuovo lui, Diogo Tavares. Tripletta per il portoghese oggi. Finito qui? No, c'è tempo ancora. C'è tempo e gloria anche per Morbidelli, che al 31esimo trasforma il calcio di rigore assegnato da Chiundemi di Viterbo. E a 5 minuti dal gong, Pizzi si toglie lo sfizio e la soddisfazione di apporre il proprio nome nel tabellino dei marcatori, con una potente botta di destro che si insacca all'incrocio dei pali del malcapitato estremo difensore molisano Romano. Finisce così Ancona 8, Boiano 0. E finisce con gli applausi per tutti, soprattutto per i giovani ragazzi molisani, che nonostante gli otto gol al passivo, hanno salvato la faccia della società presentandosi in campo. 8-0 e come poteva essere diversamente? E che colpa dare ai ragazzini di Boiano? Nessuna. Anzi, per loro, come dicevano gli statuto, oggi è stato come un giorno di festa. A neppure 18 anni affrontare la capolista in uno stadio che ha fatto pure la Serie A è comunque una vittoria per loro. In bocca al lupo per le loro carriere calcistiche e non. E auguri alla società molisana che possa risolvere i suoi non facili problemi societari. È stato come un giorno di festa pure per l'Ancona. Tre punti facili facili, senza sudare. Primato mantenuto con il dispendio fisico e mentale di un allenamento e poco più. Tavares, Degano, Tavares, Sivilla, Degano, Tavares, Morbidelli e Pizzi. Insomma, hanno davvero segnato tutti.